La Pistoiese torna a vincere, lo fa fuori casa dopo oltre 4 mesi. 1-0 a Meda contro il Renate e 3 punti che sono una bella ipoteca sulla salvezza e la avvicinano alla zona playoff. Gara più aperta nel primo tempo, partono forti gli arancioni con Rovini che dopo pochi minuti sfiora il vantaggio impegnando Cincilla. Escono i padroni di casa trovando un super Albertoni, anche oggi preferito a Feola. Prima il numero 1 ospite compie il miracolo deviando incornere il tiro di Anghileri. Più tardi al 28esimo Albertoni si supera ancora con un gran tuffo e salva il risultato dal pericoloso colpo di testa di Di Gennaro. Retroguardia arancione da rivedere. Il Renate ci prova ancora ma i primi 45 minuti terminano sullo 0-0. Si riparte poi con gli stessi 22 in campo. Il copione sembra quello della prima frazione perché è la compagine di casa ad essere pericolosa, costringendo la Pistoiese nella propria metà campo. Arrivano anche i primi cambi per mister Azzori, fuori Guglielmotti dentro Luperini ed esce pure San Martino al suo posto Colombo. E proprio con quest'ultimo i ritmi si alzano e al 72esimo Giasi entra in aria e pennella un perfetto cross per Rovini che al volo di prima intenzione trafigge Cincilla. Decimo gol è in campionato per lui. Il numero 9 arancione sblocca e regala di fatto la vittoria suoi, la prima del 2017, su un difficile campo. Due nomi su tutti fra le fila arancioni. Emanuele Rovini che è riuscito a perforare la miglior difesa del girone tra le muramiche, fino ad oggi aveva subito solo 10 gol e raggiunge la doppia cifra. E Marco Albertoni, il giovane portierino classe 95 che blinda la porta arancione. Un successo che porta la Pistoiese a quota 42 e alimenta di nuovo le speranze playoff.